ola riaccoci allora ci eravamo lasciati con la bellezza tra virgolette di otto punti con cinque partite rimaste quindi e siamo di due ancora quindi andiamo a giocare e guardiamo un po di fare qualcosa di importante no abbiamo un po di importante di vince soprattutto perché detto la cosa importante cerchiamo di vince e cerchiamo perché no mi prova andrà in d1 e lo dio toccandovi le palle ho avuto anche favore a dirlo comunque dai iniziamo e guardiamo un po cosa succede sì simone sei sulla strada giusta per andare in d1 un minuto e 30 1 a 0 lui aghero grazie mamma mia mamma nanti si soffre quando c'è anche se si vede in una delle pochissime occasioni create da me che è il primo tempo finisce sì il primo tempo parlo perché se non dici c'è uno po' di una capa giocata ho fatto finita di effettivamente occasioni sia da parte mia che da parte sua ce ne sono stati veramente poi soprattutto tua che ha fatto le regole e basta praticamente forse è un altro tiro insomma niente così però è così dai ma che cazzo fa maledetta la miseria argine mi fa incazzare quando fa così perché cosa 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 pensa adesso stavo fermo non ho piglato la x e il triangolo no non ci voglio rete non ci voglio rete no ma c'è la possibilità di far go cioè come si fa me lo spiegate per favore c'è una volta che faccio go che manca più sbaglio fai gioco vabbè no io boh non ho parole lo giuro ancora zero parole ragazzi oh finalmente arturo di testa fra la rete ha fatto anche un discorso settantasettesimo quasi settantottesimo pensate veramente che io ce la posso fare io direi di me però tentare non costa niente no finisce così come avevo tra virgolette previsto dopo il gol di vidal me lo immaginavo che alla fine non ce la facevo nemmeno a pareggiavo perché non me lo sentivo comunque inizia male questo video no prima partita si perde direi in maniera brutta perché anche se comunque lui si è reso piuttosto pericoloso per l'amore di Dio io credo che l'ultimo più giusto potesse benissimo essere un pareggio 1 a 1 2 a 2 3 a 3 un pareggio così però come sempre no come sempre no come una gran parte delle volte a favore mio non è stato comunque vattro partite rimaste sempre 8 punti vediamo un po' seconda partita vediamo un po' di rifarci subito perché nel video come ho detto prima ho iniziato in maniera un po' diciamo brusca mettiamola così è perso poi come se è perso comunque vediamo un po' 80 watt di valutazione un misto fra questa serie A bundesliga non so come fa averci vintesa 100 ma forse lo so vabbè comunque però va bene dai la casetta altra roba bello di Ocidi al volo 1 a 0 ma l'aspettavo nemmeno io ho detto io si finisce il cerchio per il tirasso va bene insomma nemmeno 5 minuti 1 a 0 la casetta per me rivedere perché mi è garbato bello eh boia mamma mia mamma mia già questi laggini eh oddio ci mi è sempre eh tira remy 2 a 0 al 25esimo e andiamo porca troia comunque ragazzi dodò per quanto riguarda i dorpi di testa voto meno avarante nel senso oh si fa sempre anticipato comunque 2 a 1 colosi mamma mia no non capire fare doppi ettari sempre di testa fa superioro l'osido tira eccolo la casetta 3 a 1 al quarantesimo qui a meno male si è rimessa un po' a favore mia la partita per ora no no a fare il gioco mamma mia se la possiamo irri anche se era a fare il gioco bella roba mamma mia mamma mia mamma mia vai cazzo mamma mia mamma mia ma la andana viccele vai deghino vai la casetta mi auguro che l'abbia chiusa definitivamente e andiamo e andiamo di luck eccolo lì finisce così meno male va tra uno si è vinto in maniera eritata azioni soprattutto nel certo tempo ce ne sono state direi piuttosto poche e che alla fine non era periodoso a parte una volta lui una volta io che per l'altro ci ho fatto go appunto non siamo mai stati anzi siamo stati poche volte e niente è andato così 4 a 1 ma no l'abbiamo vinto va bene un po' qui la classifica chi è la classifica insomma il coso vede punti 11 punti per partire ma sta allora non so che diciamo l'unica l'unica due cose disponibili sono la salvezza e la promozione non è assolutamente il titolo vabbè andiamo a fare la parte e vediamo un po' cosa succederà vai terza partita del video andiamo un po' ma soprattutto chi squadra ha tanto vedete almeno darci un'idea sulla qualità poi dipende chiaramente dalla bravura e dal modulo del giocatore stesso si vedrà cosa succede ma qui ci ha misto non c'è la serie a nio mamma mia mertiz che godi bello di devo 5 minuti e andiamo di mamma mia posso fosse dentro un po' orca trofina tevez 1-1 di dio mamma mia no bravo Samir eccolo vittorio di barbo 2-1 no a colonie no no ma ma che palle faccio golo devo sempre riprendi dopo po' che dubbia vai barbo tira no ma porca troia direi che palle ma perché deve fare così la difesa come rigore si sta scherzando che ha fatto fallo andano ma che rigore è ma non è possibile ma che palle no peccato o per se riuscite profonda vuole palle no foca a porca troia tevezzi mi chiamiamo favo fai borbo uscivo gli eredi no scoppiato la travezza no ma proprio madonna alla fine ci ha messo il piede no voglia di no non ci voglio di no ma cosa finisce assi le possibilità da andare in D1 finiscano via, tanto me lo immaginavo alla fine non ce la faccio subito e niente quindi l'unio obiettivo rimasto alla salvezza se non sbaglio quindi speriamo a meno velo di raggiungerla che palla però eh andiamo a fare speriamo l'ultima partita del video se così non fosse bella varta la varta sempre però penultimo se nel caso niente basta un pareggio per poter salvarci squadra rotazione 83 misto no cosa la ligane ma mia non è insieme tira no no c'è penso ma più fuoco già da la parte di prima di porca troia una zero picchi ventitresimo sblocca lui per ogni volta appunto spavore porca troia due a zero pensi maddi boia ogni azione in go madonna di dai cazzo di 3 a 0 no ormai l'ho già persa maddi che palle un'altra volta anche fino fuoco uguale eccolo almeno vengo della bandiera 3 a 1 ti ha avuto no male via almeno verlo fuori soddisfazione 2 a 1 4 a 1 5 a 1 5 a 1 benissimo buon intervento finisce così 5 a 1 quella che poteva come ho detto inizio partita poteva essere l'ultima partita del video si è dimostrato proprio l'opposto no perchè non è che è la prima però ne una rispata totale eh no tante azioni e comunque non l'ho messo perchè vittoria è strameritata ha giocato bene lui ha giocato sicuramente meglio di me mi spiace perchè manca un punto un punticino che se si riveste che deve si ritrovare avversario simile nell'ultima perchè la prossima è l'ultima partita torni di 3 no dai voglio pareggio almeno l'ultimo almeno un pareggino boh stiamo bene dai ultima partita stiamo bene dai parigino almeno rotazione 84 boh dai ciao squadra vai 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 tira no tira tira ma che cane c'è vai boh tira tira eccolo Arturo Vidal 1 a 0 al tredicesimo dai ragazzi la fine basta almeno un pareggio no che salvaggio come dire eh no mamma mia meno male si però che parli un po' mi è uscito così perchè no 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 mamma mia mamma mia quanto rischio certo devo prendere il go per forza eh vedi tra miseria anidi 1 a 1 go a Carlitos eccolo lì Tevez e andiamoli a ringraziare anche Tejo Vincoli perchè sono qua ma con fiocchi no ahhh Tevez madonna buona no 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 ma che culo però a dir Rune 2 a 2 al 66 che palla prende con così dai dai oh Arturo vi da doppietta di Barbo ci devono fare una sapone questa partita via ha fatto assist lo fare oh mamma mia mamma mia meno male ma che cazzo ne ti rifai Barbo mamma mia coni non cio vinco va tra 2 all'ottantesimo dai partita ufficiosamente chiuso chiedo ecco erois ho aperto bocca tre giorni fa erois aria ale no no mamma mia anche uscite di merda mamma mia can revade oh via finisce sì 4 3 siamo server menavelle una ossa che vorrei aggiungere e lo dio a toccandomi le palle era capito il perché io capisco no com'è mai la maggior parte delle volte se non tutte vado a memoria e meno male l'ultima partita quella che riguarda la servezza cioè alla fine la vinco la pareggio sempre cioè punti che mi servono alla fine le faccio cioè perché questi le faccio e invece mando magari manca poco per il titolo o la promozione non ce la faccio mai perché devo trovare a mettere tutte le parti più forti cioè ora con tutto il rispetto per questo vi poi vi lascio stare vi saluto eh però era questa una piccola riflessione mettiamola così cioè ora con tutto il rispetto per l'ultimo avversario questo vi facciamo la mano del d'orto cioè perché tutte le volte devo trovare avversari più forti per caso perché comunque John è che lo sa a meno che vedo a meno che mi ha fatto cioè qualche sotterfugio sotto perché tutte le volte per la servietta ce la faccio e meno male e ripeto mi tocco le palle mentre lo dio per l'artreosio ce la faccio quasi male boh vabbè via detto questo prima di salutarvi vorrei dirvi una osina allora non so se farò una cosa ehm come ho fatto diciamo per poter andare in D2 per andare in D3 ovvero se non sbaglio due video fa che se ci dovesse essere l'occasione di andare in D1 faccio solo il video che riguarda l'ultima di partita insomma l'ultima di partite o farò almeno ci riproverò ehm come faccio sempre ovvero riparto da dalla decima diciamo dalla prima partita sulle dieci partite da fa e si vede un po' succedere non lo so ancora insomma spero avete capito che abbiate capito cosa voglio di e niente detto a questo vi saluto e come sempre mi lascia e vi ricordo di me vi invito vai a mettere se volete mi piace al video di condividerlo ma soprattutto che è una cosa importante iscrivetevi al canale bene detto questo ci vediamo alla prossima al prossimo video vabbè via ciao 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 ciao